ricordatevi di parlare sempre vicine così vedi senti ok prova prova brava sì sì brava 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 dai che taglio tutto che entriamo ristoradioconvento per raccontarsi per raccontare e ci siamo ci siamo nuovamente in diretta ma velocissimi perché questa sposa deve prendere il pullman e andare vero vero la limousine la limousine scusa non lo dico più eh la limousine ragazze wow vi trattate bene da dove venite offanengo offanengo famosissimo posto ridente località cremona provincia di cremona quella vicino crema come ti chiami sposa serena serena ma valentina serena valentina ecco ricordiamo la nostra amica valentina non dimentichiamoci di valentina ma era serena ma non troppo giusto no serena lo dice al meteo esatto giusto giusto ma abbiamo qui valentina serena sai che valentina per tutta sera ha spaccato in questo locale ma spacca sempre valentina non avevi dubbi vero la vostra è una copiata vincente secondo me penso che mi è cognata e poi è tua cognata ma quindi voi uscite assieme da un po fate le matte è quasi preferito stare con la cognata che tutto il futuro marito praticamente stasera era proibito stasera era proibito no certo ovviamente no però in generale preferisci uscire con la valentina tutti insieme appassionatamente una cosa proprio una mucchiata una cosa bellissimo mi piace questa cosa ricordiamo che valentina ha delle proprio delle frasi ad hoc che interviene sempre nel momento migliore giusto vale giusto giusto è fantastica ma ricordiamo un'altra cosa valentina è single sposata sposata quindi tutti gli abitanti del convento di stasera sono rimasti tristi per questa cosa abbastanza non tutti però però una buona parte intanto le amiche sono minacciano si mi stanno dicendo di salutare ricchi che è il moroso della mia amica a salutiamo ricchi ma che ricchi ricchi martin che fa ci sta ascoltando ci sta ascoltando diretto veramente allora salutiamo le amiche vai grande ricchi grandissimo e allora vai saluta anche le amiche che sono lì fuori saluto tutte chiara martina olimpia l'altra chiara sabrina mia sorella debora magari ma che bello ma che bello ma diciamo ricchi che ti sta scrivendo anche ma ricchi cosa scrive un messaggio in diretto da ricchi che dice ciao orto mio orto mio non voglio sapere ricordiamo che fra i vari ortaggi c'è un tubero che interessa molti maschi e tu sai cos'è il tubero passiamo la parola sposa ecco fra i vari ortaggi che che ortaggio può interessare ai maschietti che ci stanno ascoltando in questo momento non è una parolaccia eh l'asparago è un tubero sicuramente l'asparago sicuramente l'asparago è quello che interessa tutti i maschietti che ci stanno ascoltando in questo momento tu hai portato l'asparago l'hai portato hai portato qualcos'altro anziché l'asparago cosa ti sia portata dietro che di solito che roba attenzione è fuori uso la fare questi quiz così difficili a quest'ora della notte ecco chiediamo a valentina che si valentina sicuramente saprà la risposta qual è l'ortaggio misterioso che piace tanto ai maschietti la patata la patata grandi ecco anche serena se si è commossa ha detto cavoli grazie mi hai dato questo aiuto non pensavo tra l'altro vi aveva dato alcun indizio che te la sei portata 10 nel senso era anche quello l'indizio utile per indovinare ma non ci sei riuscita lo stesso fuori fase 0 0 intanto le amiche scalpitano perché probabilmente ecco dobbiamo andare sì e se no lo sparago qua se ne va anche stai serena stai serena lo dice al meteo bellissimo la slogan della serata è serena lo dice al meteo bello bello è una frase che avete invitato voi allora vabbè lei è serena io non troppo testo no io sono serenissima cioè niente praticamente vabbè era nel mio gergo stai serena e per cui questa maglietta è arrivata dalla dalla tua testa e metà dalla dall'altra amica ecco perfetto perfetto mi piacciono queste tue amiche che anzi sono state abbastanza chiaramente avete visto i maschietti come erano vestiti stasera vero quello da cirlidi improponibili ok perfetto sono stati fortunati allora va bene se non vuoi salutare anche tuo futuro marito mi piace questo dato fratello no va bene ok salutiamo le amiche di o fanengo c'è la limusì che ci aspetta ciao ragazze ciao 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 ciao